Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, in particolare la crisi al comune di Teramo con il sindaco Maurizio Brucchi che questa mattina, pochi minuti fa, ha rassegnato le sue dimissioni mettendole nero su bianco dopo aver constatato di non avere più la maggioranza nella lettera di commiato alla città. Il primo cittadino ha sottolineato la sua delusione per l'epilogo dell'amministrazione del suo secondo mandato soprattutto in un momento così delicato per il capoluogo aprutino. Allora sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La lettera di dimissioni il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi l'aveva già scritta ieri dopo aver constatato di non avere più una maggioranza in Consiglio Comunale. Ha aspettato 24 ore prima di inviarla ufficialmente, ha provato in estremis a ricomporre le cose ma poi si è arreso. Con queste parole oggi si dimette da primo cittadino e saluta la città. Dopo una lunga e sofferta riflessione, dice il sindaco, in considerazione della situazione politica che si è venuta a creare all'interno della coalizione di centrodestra al Comune di Teramo questa mattina ho rassegnato a Sua Eccellenza il Prefetto di Teramo e al Presidente del Consiglio Comunale le mie dimissioni da sindaco. La dedizione e l'amore verso la mia città ritengo di averla dimostrata in 17 anni di amministrazione. La costanza, la coerenza, l'onestà e il grande lavoro hanno caratterizzato il mio essere consigliere comunale, assessore ed infine sindaco. Ringrazio prima di tutto la mia famiglia, i miei concittadini, la coalizione che mi ha sostenuto, il Movimento di Forza Italia, in particolare il Presidente Silvio Berlusconi i cui valori hanno ispirato la mia azione politica. Non ultimo ringrazio l'intero Consiglio Comunale e tutte quelle persone che hanno lavorato al mio fianco in questi anni. Lascio con profondo dispiacere il rammarico in un momento in cui la città avrebbe bisogno di una guida per portare avanti le difficili sfide del post-sisma, ma consapevole di aver dato tutto me stesso per la mia amata Teramo. Ora il sindaco Brucchi ha 20 giorni per ritirare le sue dimissioni e c'è chi dice che abbia un ultimo asso nella manica per vincere la partita e restare in sella. Un appello alla responsabilità, alle opposizioni, ma soprattutto ai dissidenti, ricordando loro il drammatico momento che la città sta vivendo con tanto da ricostruire. Missione quasi impossibile. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Rinviato lo sciopero dei trasporti in programma il prossimo 26 di aprile. Nel corso del secondo congresso interregionale della FITCISL, tenutosi questa mattina a Francavilla al mare, e i sindacati hanno esposto tutte le tematiche al centro delle loro proteste. Il servizio è di Francesca Romana Testi. Un incontro con la CISL, in questo caso si parla di trasporti e si parla di quello che era uno sciopero annunciato. Si cerca di tornare indietro e di trovare un accordo con la regione. Sì, stiamo lavorando ad evitare lo sciopero, ma più che evitare lo sciopero, a risolvere i nodi che lo sciopero pone, soprattutto con riguardo alle risorse. C'è un problema di minori risorse trasferite a livello nazionale, però di impatto a livello locale. Sono i fondi regionali che mancano, è lì, perché dalla regione Abruzzo nel 2016 e nel 2017 c'è una carenza di fondi di circa 15 milioni e mezzo di euro. Adesso dobbiamo vedere come superire questa carenza economica. È chiaro che la regione Abruzzo ci deve mettere i soldi, altrimenti deve tagliare i chilometri, non c'è altra via d'uscita. Su questo credo che possiamo dare una risposta ampia di 10 a 20 milioni di risorse disponibili per l'acquisto dei nuovi mezzi, invece sulle risorse che finanzano il trasporto pubblico locale ci sono più problematicità. Il 26 ci sarà questo incontro, vediamo se riusciamo a evitare. Intanto oggi abbiamo approfittato per confrontarci su alcune questioni e soprattutto sul futuro. Secondo voi quale sarà la posizione della regione durante l'incontro? La posizione della regione è chiaro che la dobbiamo vedere il 26, il 27 avevamo già programmato quattro ore di sciopero, c'è questa convocazione, l'abbiamo posticipato allo sciopero. La regione è sempre disponibile a raggiungere un accordo, ma anche noi. Deve fare un piano regionale di trasporti, il riferimento ai soldi che ha su ferro e su gomma e creare questa intermodalità. Però è chiaro che ci deve portare i soldi, bisogna vedere realmente che cosa ci mette sul tavolo. Il commissario regionale Claudio Ruffini, giunto al termine del suo mandato al Consorzio di Bonifica di Chieti, ha illustrato l'attività svolta durante il suo mandato. Allora andiamo a vedere insieme il consuntivo nel servizio di Paolo Rezzetti. I ringraziamenti dipendenti e soprattutto le associazioni di categoria presenti mi ha fatto particolarmente piacere perché quando sono arrivato qui ho trovato molto disorientamento perché il Presidente, il Direttore e il responsabile del depuratore erano stati raggiunti da provvedenti giudiziari e poi ai provvedenti giudiziari era arrivato anche il provvedente della regione Abruzzo che interrompeva l'attività di depurazione conto terzi, cioè quella provvedente dagli esterni, dal mondo produttivo, della depurazione presso l'impianto San Martino di Chieti che significava circa oltre 4 milioni l'anno di entrata. Ho lavorato per far ridurre i costi di gestione, lavorando sul personale, lavorando sulla riscossione diretta della contribuenza, lavorando anche attraverso i regolamenti per quanto riguarda la gestione di autorizzazioni varie, quindi recuperando circa un milione e mezzo di costi in meno e poi lavorando in concerto con l'amministratore giudiziario per far sì che quella autorizzazione regionale, l'AIA, fosse revocata, cosa che è avvenuto in data 21 marzo. Quindi l'attività esterna del depuratore è ripartita, anche se progressivamente, con maggiori accorgimenti, più stringente dal punto di vista dell'immissione delle acque e anche con il controllo molto più puntuale delle acque depurate rilasciate sul fiume. Questa è stata l'attività prevalente senza tralasciare un'attività importante del consorzio sugli investimenti. Stiamo lavorando, si sta lavorando al consorzio con circa oltre 20 milioni di investimenti che riguardano ampliamente la rete irrigua, ampliamente il depuratore, interventi presso la diga di penne. Sono queste le principali attività che ho cercato qui di svolgere, che si possono trovare attraverso atti da me compiuti come commissario. Sono esattamente 140 delibere. Restiamo sempre a Chieti. Il PD oggi in una conferenza stampa ha ribadito il proprio parele favorevole sulla nascita di un nuovo ospedale. Sentiamo. Febo, qual è la posizione del Partito Democratico sul nuovo ospedale di Chieti? Noi vogliamo che la Regione se ne occupi come se ne sta occupando e realizza al più presto un nuovo ospedale a Chieti. Questo significa dare la soluzione ai problemi che ci sono oggi. Noi oggi abbiamo, ma non oggi, dal 2012, e questo io rimproverò sia a Chiodi che a Febo, che non se ne sono occupati uno Presidente della Regione e l'altro Consigliere regionale, abbiamo una struttura che ha seri problemi strutturali. Oggi si decide, ma già dal 2015 si è deciso e la Regione ha deciso, di investire sulla città di Chieti realizzando un nuovo ospedale. C'è dunque una disputa con il centro-destra di Chieti che non la pensa come voi? È evidente questo. In questi ultimi mesi lui ha buttato fumo agli occhi dei cittadini cercando di raccogliere il consenso elettorale a discapito della qualità della sanità a Chieti. E si è visto poi mercoledì in Consiglio Comunale dove Forza Italia e Cinque Stelle hanno votato un ordine al giorno che dice no a un ospedale nuovo a Chieti. A questo punto cosa farete per portare avanti la vostra battaglia e poi portare avanti le vostre idee? Noi continueremo sul solco già intrapreso con la Regione che dopo che ha inaugurato e aperto definitivamente il nuovo polo del cuore a Chieti che è sotto gli occhi di tutti ed è una realtà che è sulla nostra città quando invece il governo di centro-destra lo voleva chiudere addirittura Febbo proponeva di metterci un centro per gli anziani un centro di ricerca per gli anziani oggi il polo del cuore è una realtà noi faremo e chiederemo e continueremo a chiedere alla Regione di investire sulla città di Chieti e di realizzare un ospedale nuovo che darà sicuramente una certezza alla nostra città di avere una sanità di alta qualità. La saga accusata da alcuni organi di stampa di inadempienza verso l'obbligo di trasparenza in merito ai contratti stipulati con i vettori oggi ha deciso di rispondere organizzando una conferenza stampa e spiegando punto per punto tutti gli obblighi onorati dalla società che si occupa della gestione dello scalo aeroportuale di Pescara ricordando che si tratta di un soggetto di diritto privato a controllo pubblico. Precisazioni da fare da parte della saga sulla trasparenza e su accuse che in qualche modo vanno a ledere l'immagine del lavoro che si fa all'interno dell'aeroporto una normativa in realtà che tutela quello che è stato il lavoro fatto fino ad oggi e punto per punto viene spiegato come è stata in qualche modo portata a termine? È una normativa complessa, articolata siamo una società altamente vigilata da diversi organismi e pertanto rientra ai nostri compiti e lo facciamo evidentemente giornalmente nel cercare di rendere sempre aderente gli atti della società alle normative che mutano anche nel tempo e in questo caso su questa materia anche abbastanza velocemente e frequentemente. Si è parlato di inadempimenti di in qualche modo un coinvolgimento dell'ANAC e poi è stato spiegato proprio quello che è attualmente il dispositivo in corso e soprattutto quando si parla di contratti con vettori saga ha spiegato punto per punto come sono in essere. Per quanto riguarda il rapporto con l'ANAC la società non ha mai ricevuto delle lettere nelle quali ci veniva comunicato nelle linee adempimento. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione ci sono le linee guida del Ministero che chiaramente citano il fatto che non vi è alcun obbligo di pubblicazione dei contratti vi è stato per un certo periodo dal 2 ottobre del 2014 fino all'11 agosto del 2016 la richiesta di pubblicazione degli effetti degli incentivi ma in quel periodo la saga non ha sottoscritto alcun accordo con alcun vettore pertanto è per questo motivo che non ha dovuto pubblicare alcun elemento. Con le nuove linee guida dell'11 agosto 2016 il Ministero dei Trasporti ha chiaramente indicato che tutti quegli accordi che rispettano il test dell'operatore privato non sono aiuti di Stato e quindi non hanno alcun obbligo di comunicazione o di pubblicazione. Ora due notizie di cronaca la prima i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Pescara hanno tratto in arresto un 54enne pluri pregiudicato di Napoli per truffa aggravata ai danni di un'anziana i militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di persone sospette notate a girarsi nei pressi degli ingressi di alcune palazzine residenziali del centro in via Cadorna hanno notato un'autovettura di colore grigio in sosta risultata noleggiata a Napoli e subito dopo un individuo uscire in tutta fretta dal portone di un palazzo occultando qualcosa sotto il soprabito sottoposto a controllo l'uomo è stato trovato in possesso di monili in oro tra cui collane e due fedi nuziali che in maniera fraudolenta aveva appena sottratto ad un'anziana donna residente nel condominio i successivi accertamenti hanno permesso grazie alla collaborazione della vittima di ricostruire la dinamica dei fatti consentendo di accertare che l'anziana era stata in precedenza contattata telefonicamente da un ignoto complice che fingendosi un avvocato e quindi un carabiniere le aveva chiesto il versamento di una ingente somma di denaro quale cauzione da versare per la liberazione della figlia trattenuta in caserma poiché responsabile di un grave sinistro stradale e ancora è stata sanzionata una ditta di pretoro in provincia di Chieti che aveva scaricato illegalmente rifiuti speciali non pericolosi nell'area artigianale ischia del comune di Tufillo i carabinieri della stazione forestale di Gissi sono riusciti a risalire all'impresa responsabile dell'illecito tra i rifiuti infatti sono state trovate apparecchiature che hanno consentito di individuare l'identità del fornitore il legale rappresentante della ditta è stato denunciato oltre a recuperare o smaltire i rifiuti e ripristinare lo stato dei luoghi l'impresa dovrà pagare una multa di 6.500 euro ed ora cambiamo decisamente argomento si chiama una cena per ricominciare dell'iniziativa messa in campo dall'associazione Qualità Abruzzo guidata da Marcello Spadoni per aiutare i dipendenti superstiti dell'hotel Rigopiano di Farindola distrutto da una valanga lo ricorderete lo scorso 18 di gennaio dipendenti che vogliono riaprire un'attività turistico-ricettiva proprio nel piccolo paese dell'area vestina i migliori chef d'Abruzzo dunque scendono in campo con una serata di gala il cui ricavato sarà interamente devoluto a questa nuova start-up vediamo una serata di gala con un menù stellato 100 euro di contributo per partecipare ad un obiettivo importante aiutare i dipendenti che sono sopravvissuti alla tragedia dell'hotel Rigopiano in cui hanno perso la vita 29 persone a rilanciare un'attività turistico-ricettiva a Farindola l'evento organizzato dall'associazione Qualità Abruzzo si terrà giovedì 27 aprile al ristorante Lergar della Reserve di Caramanico Terme in provincia di Pescara ai fornelli ci saranno tutti i migliori chef della regione Abruzzo che per questa occasione uniscono le forze per dare una mano ai colleghi rimasti senza lavoro e vogliosi di cimentarsi in una nuova avventura imprenditoriale l'intero ricavato della serata sarà consegnato nelle mani del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta Davide Pezzuto chef del D1 di Montepagano questa iniziativa è stata fatta per aiutare questi ragazzi che vogliono ricominciare e vogliono insomma avviare un'attività ristorativa alberghiera a Farindola quindi noi che siamo dei colleghi ci sentiamo in dovere anche in piacere di fare questa cena che costerà 100 euro però sarà tutto devoluto all'iniziativa di questi ragazzi che vogliono ricominciare a testa alta nella loro passione il menù sarà ricco di cose buonissime io farò un antipasto però non voglio dire altro perché voglio lasciare la curiosità però sarà un ottimo menù ci sarà presente Peppino Tinari Marcello Spadoni Nicola Fossaceca del Metro Ferretti Sandro Ferretti insomma tante eccellenze abruzzesi tutte riunite per questo bellissimo evento ogni ristorante si sta facendo aiutare dal proprio fornitore in modo che veramente tutto 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 l'incasso possiamo devolverlo in questo aiuto diciamo quindi noi siamo tutti lì dovete venire anche voi dovete partecipare numerosi vi aspettiamo ancora una notizia che riguarda gli eventi sarà Dodi Battaglia dei Pù la star della festa in onore della Madonna dello Splendore a Giulia Nova si parte oggi con l'arrivo della banda musicale poi domani l'attesa processione della statua che partirà dalla chiesa di San Flaviano per arrivare al Santuario dei Frati dove sarà celebrata la Santa Messa ufficiata dal Vescovo per problemi di sicurezza invece non avranno luogo i tradizionali fuochi pirotecnici sul lungomare quali sono le novità per questa edizione 2017 più che novità diciamo che sono dei dispiaceri non novità nel senso che noi avevamo programmato anche i fuochi piromusicali ormai una tradizione purtroppo sono stati negati proprio due giorni fa questo è il lato negativo diciamo altrimenti la novità diciamo che viene dall'artista abbiamo Dodi Battaglia come artista come cantante poi le due bande tradizionali pugliesi quelli di Conversano e di Francavilla Fontana poi a seguire per la processione la banda di Angarano e via via il concerto di ragazzi che fanno lo spettacolo domani sera cosa rappresenta per il popolo giuliese questa festa? ma i festeggiamenti di Maria Santissima dello Spendore è una tradizione che dura dal 1557 un po' decaduta negli ultimi anni fino all'81 poi ripresa e rimessa su dopo l'81 fino ad arrivare i giorni nostri dove sono stati qui tutti i migliori cantanti di Sanremo quindi tutte le varie manifestazioni le più grandi bande internazionali e le bande pugliesi che effettivamente fanno da cornici a questa manifestazione sì la Madonna è apparsa all'umile contadino Bertolino proprio dove sorge il convento non è una è una tradizione veritiera per cui diciamo che in linea di massima i giuliesi ci tengono tantissimo a questa apparizione e adesso apriamo la pagina dello sport partendo dalla Serie A e dal Pescara venerdì insolito di riposo per la Roma che lunedì sarà di scena l'Adriatico Cornacchia proprio nella partita contro il Pescara per il Delfino seduta singola mattutina di allenamento al Poggio degli Olivi Zeman Zeman dovrebbe inserire e affidarsi alla coppia difensiva Coda Bovo viste le condizioni non ancora ottimali di Stendardo e Campagnaro al centro dell'attacco si rivedrà il francese Baebec con lui nel tridente ci sarà uno dei tanti ex Gianluca Caprari che conferma quanto avvenuto all'andata cioè in caso di gol esulterà contro i tifosi della squadra che l'ha visto crescere allora ascoltiamolo Gianluca Caprari è una partita come le altre sicuramente come ho detto già in precedenza la società che mi ha cresciuto quindi è una partita magari un po' diversa ma emozioni zero avevi segnato nella gara d'andata quel gol non era bastato però per evitare la sconfitta se dovessi segnare lunedì sera all'Adriatico esulterai oppure no sì sì come già ho detto in un'andata esultavo l'ho fatto e se esulto lunedì esulto ma c'è qualche sassolina dalla scarpa che ti vuoi togliere no no nulla loro hanno fatto le loro scelte se sono qui e comunque sono un giocatore dell'Inter devo solo ringraziare loro che magari mi hanno lasciato libero è una partita tra l'altro che vedrà diversi ex nel Pescara tu Zeman Ver Crescenzi cercherete di fare uno sgambetto proverete quantomeno a fare uno sgambetto alla Roma sicuramente come ogni partita proveremo a fare il massimo magari per noi è uno stimolo in più visto che comunque ci siamo cresciuti ma non siamo rimasti lì sulla carta è una partita quasi proibitiva per voi però giocherete ormai con la mente sgombra perché c'è poco da chiedere al campionato se non quello di chiudere la stagione in maniera dignitosa sì sicuramente è una partita difficile ma abbiamo dimostrato magari nelle ultime partite come con il Milan magari con la Juve di poterci stare magari con un pizzico di più di attenzione riusciremo a fare qualcosa di positivo sicuramente lo conoscete il mister penso che si sa un autore che comunque lavora molto sulla corsa i primi giorni e devo dire che in queste settimane si sta vedendo anche sul campo corriamo molto di più rispetto a prima quale giocatore Gianluca Caprari toglierebbe la Roma di Spalletti per la gara di lunedì ne toglierei un bel po' da Nengolanna Dzeko e Salah penso che sono i tre giocatori che fanno fare il salto di qualità alla Roma e adesso scendiamo di categoria restando sempre al calcio per parlare della Lega Pro e del Teramo che continua la preparazione in vista della partita di domenica pomeriggio sul campo della Maceratese nonostante il caos societario ai giocatori marchigiani è stata corrisposta una mensilità arretrata ieri sera un comitato spontaneo di tifosi ha consegnato all'allenatore Giunti la somma di 5.000 euro utile per il pagamento degli steward addetti alla sicurezza del campo Elvia Recina in casa Teramo il tecnico Guido Golotti pensa al 4-3-3 mentre il portiere Narciso ritiene ancora possibile la salvezza diretta dei Biancorossi sentiamo la salvezza ma sinceramente no allo stato attuale ti dico no perché ci sono ancora tre partite ci sono nove punti e facendo nove punti c'è la salvezza matematica credo quindi allo stato attuale ti dico che io a Playout non ci sto pensando e penso anche ai miei compagni di squadra quindi perché pensare quando ancora c'è la possibilità di fare un'altra strada io la vedo così stiamo tutti quanti cercando abbiamo cercato di fare qualcosa in più per cercare di tirarci fuori la situazione che c'era e che c'è ancora perché alla fine non è cambiato tanto hai fatto qualche passo in avanti però alla fine la classifica dice ancora che sei nei Playout capisco che giustamente quando si entrano in situazioni difficili non è facile cercare e trovare la cosa positiva però purtroppo noi giocatori per primi dobbiamo farlo e l'abbiamo sempre fatto siamo anche in un periodo di campionato finale dove ci sta che può subentrare un po' di stanchezza però purtroppo non deve essere il nostro caso noi dobbiamo cercare di correre più degli altri il problema è questo io non la vedo non entro nell'ambito tecnico perché alla fine c'è il mist e c'è chi di dovere che deve giustamente cercare di trovare la mossa più giusta io mi farisco più troppo dal punto di vista fisico dal punto di vista dell'attenzione della mentalità su quello penso che ognuno sta dando il massimo poi ripeto in questa circostanza ci sta di incappare in situazioni non dico di black out però il peso si sente anche a livello fisico mentale si sente l'associazione amici del calcio teramano in collaborazione con l'università di teramo ha istituito la prima edizione del premio Carmine Rodomonti in ricordo del noto direttore sportivo di livello nazionale la ceremonia di consegna ci sarà lunedì 24 aprile alle 17.30 nell'aula magna dell'ateneo di teramo e sarà preceduta da un convegno sul ruolo del direttore sportivo nelle società di calcio sentiamo il servizio l'università di teramo ospita la prima edizione del premio Carmine Rodomonti istituito dall'associazione amici del calcio teramano per ricordare un personaggio che ha fatto storia a teramo arbitro e direttore sportivo di livello nazionale chi era Carmine Rodomonti? Carmine Rodomonti era un grandissimo dirigente sportivo che ha prestato la sua opera sia nel mondo arbitrale che nel molto calcistico ha cominciato come arbitro è stato uno dei fondatori della sezione arbitri di teramo unitamente al compianto dottor Basile ha formato generazioni di arbitri è stato lui stesso uno dei più grandi protagonisti come categoria raggiunta infatti ha arbitrato in serie B per questa prima edizione il premio Rodomonti andrà a Giorgio Rumignani giocatore ed allenatore che ha condiviso tante pagine importanti del calcio teramano che significato ha questo premio? beh diciamo questo è un premio che si innesta in tutta una serie di iniziative che la nostra associazione noi amici del calcio teramano ha inteso promuovere per evidenziare quelle che sono state le eccellenze del calcio teramano cioè i personaggi che hanno dato lustro alla nostra città sotto il profilo dello sport calcistico e tra questi sicuramente c'è Carmine Rodomonti che è stato una pietra miliare nell'ambito del calcio teramano a tutti i livelli sia professionistico e direttantistico abbiamo inteso quindi voluto ricordare la sua memoria la sua opera il suo talento e soprattutto in un momento come questo in cui Teramo necessita di questi personaggi il calcio quanto è importante per una provincia un capoluogo come Teramo beh diciamo è molto importante perché il calcio non è solamente espressione di un'attività sportiva è soprattutto economia soprattutto immagine e soprattutto sociale rapporti informazione con la stampa informazione con il mondo della cultura e in questo caso anche con il mondo del lavoro considerando che la figura del direttore sportivo che noi oggi intendiamo in qualche modo enfatizzare con questa nostra iniziativa è una figura importantissima nel mondo del calcio una figura che deve essere leale ed onesta sicuramente sì è il punto di riferimento tra gli sportivi tra i calciatori tra il pubblico la stampa la società e quindi necessita di grande trasparenza di grande competenza di grande capacità e di grande intuito prima di salutarci una notizia che riguarda il mondo dei giornalisti infatti è stato eletto nuovo presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti il collega Nicola Marini giornalista abruzzese il sindacato dei giornalisti con una nota si congratula ed esprime soddisfazione per l'elezione di Nicola Marini a presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti marini abruzzese doc già apprezzato nel ruolo di tesoriere dell'ordine nazionale si legge nella nota dell'SGA saprà ricoprire con identico slancio e professionalità il nuovo incarico che arriva in un delicato periodo di transizione la certosina conoscenza della professione la lunga esperienza sul campo iniziata nella redazione del quotidiano il tempo e continuata in Rai sono sicura garanzia di responsabilità verso tutti i colleghi per l'Abruzzo la sua elezione rappresenta un motivo di vanto conclude la nota e al tempo stesso di riconoscenza per tutti quei giornalisti che lavorano raccontando il quotidiano della nostra amata terra al neopresidente Nicola Marini i più sinceri auguri di buon lavoro da parte del sindacato e ovviamente da parte della redazione di TV6 possiamo chiudere questa prima edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19 io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti.